Ciao a tutti, mi chiamo Marco Vedovato. Ciao, sono Giorgia. Ciao, sono Jacopo. Mi presento, mi chiamo Andrea Nosso. Mi chiamo Ilaria, ho 28 anni e ho frequentato il corso di laurea triennale presso lo UOV nel lontanissimo 2011-2014. Ho frequentato il corso di laurea tra il 2012 e il 2015. Ho conseguito la laurea triennale in Design della Moda e Arti Multimediali allo UOV nel 2016. Ho concluso il mio percorso di studi di laurea triennale di Design della Moda presso l'Università UOV di Venezia nell'anno 2013. Nel mio percorso all'UOV che ho iniziato nel 2014-15 e mi sono laureato nel 2018. Sono Mansfield Designer per Monclerge Genius 1952. Oggi vivo a Milano e da ormai tre anni lavoro in Bottega Veneta, ufficio stile Leather Goods. Attualmente vivo a Parigi lavorando come designer da Chris & Dior. Vivo da tre anni. La bellissima Parigi. Dove lavoro da Buro Betac come producer, che significa che mi occupo di coordinare tutta l'organizzazione delle sfilate e degli eventi di moda e lusso che disegniamo e produciamo. Vivo e lavoro a Verona per un'azienda che sviluppa tutte le fasi di una collezione di accessori di moda, dalla ricerca materiali, allo sketch, alla prototypia, fino ad arrivare alla consegna del campionario finale. Lavoriamo con fashion design emergenti, ma molti anche di quei brand che potevo solo studiare o leggere. Il fondamentale per me è stato capire in quei tre anni, grazie ai professori e ai vari corsi, come potermi esprimere, come poter esprimere la mia creatività. Frequentare lo UOV significa innanzitutto poter imparare a conoscere la complessità del sistema moda, di poter imparare a conoscere tutte le persone che ve ne fanno parte e che vi contribuiscono a renderlo tale. UOV è la mia bellissima famiglia, è comunque la scuola che mi ha permesso di scoprirmi e darmi tutte le nozioni necessarie a capire un mondo vastissimo, dove non esiste solo il ruolo del fashion designer per l'appunto. L'università mi ha insegnato ad analizzare la moda, a guardarla con occhio critico e mai scontato. Mi ha insegnato soprattutto un metodo di progettazione applicabile a qualsiasi scala, a qualsiasi direzione. Lo UOV sicuramente mi ha dato una consapevolezza, una consapevolezza critica di questo mondo del design, della moda in particolare e tutto ciò che è creativo, ma in particolare mi ha insegnato e regalato gli strumenti per poter sognare. Per me lo UOV è stata un'esperienza incredibile, è stata una sfida intensa e impegnativa, ma è stata soprattutto una palestra che mi ha aiutato a ricoprire il ruolo che ad oggi ho. Questo percorso di studi mi ha dato la grande libertà di poter esprimere e scoprire la mia identità, sia personale sia creativa, dandomi poi quindi gli strumenti per identificare le mie passioni, i miei interessi, in un clima di totale apertura e condivisione. Lo UOV per me è un po' la mia famiglia, siamo un piccolo collettivo che si sta ingrandendo molto, quindi se non sa cosa fare vai allo UOV! Batti da Parigi! Bisù!